video breve lo facciamo di pochi minuti per far vedere una cosina interessante perché come si vede dallo scritto qui sotto, giravoce che si possa fare appello alla Convenzione di Oviedo che protegge i diritti dell'uomo in tema di, diciamo così, intervento biomedico-medico. Ora il riferimento viene fatto riguardo l'utilizzo della mascherina che sarebbe per certi versi un trattamento sanitario obbligatorio con un piccolo problema. Mascherina, come riportano anche per legge molte di queste, non mi è presidio medico, parliamo delle chirurgie, parliamo di tante altre cose, poi noi lombardi, adesso andremo a vedere, abbiamo anche una dicitura particolare delle protezioni per naso e bocca. Non è proprio così, non si può fare riferimento alla Convenzione di Oviedo anche se c'è una legge del 2001, ricordiamolo. Adesso andiamo, facciamo prima, andiamo direttamente sul browser, partiamo dal sito con il testo, poi andiamo a vedere quello che dovrebbe essere il percorso, ovvero l'Italia è tra i paesi che hanno firmato la Convenzione, ma non l'abbiamo ratificata. La ratifica è necessaria per far entrare in vigore o per avere gli effetti di questa Convenzione, quindi essere obbligati a rispettarla. Andiamo sul sito e adesso vediamo brevemente di cosa si tratta e per quale motivo non è applicabile sul territorio italiano. Questo è il sito del Consiglio d'Europa dove vediamo la pagina dedicata al Trattato 164 che è appunto la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo, leggiamo, e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina. Come vedete si chiama Convenzione di Oviedo perché è stata fatta appunto ad Oviedo il 4 aprile del 1997. Contestualmente l'Italia ha firmato, ora è entrata in vigore con le prime ratifiche, ma in vigore a livello internazionale i singoli paesi la devono ratificare uno per uno. Andiamo a vedere prima di tutto il testo perché vorrei far vedere allora l'oggetto e la finalità, ovviamente, quindi stiamo parlando appunto del rispetto, vedete l'articolo 1, rispetto dell'integrità dell'essere umano e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Andiamo a vedere poi l'articolo 4, un intervento nel campo della salute compresa la ricerca deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, eccetera, eccetera. La cosa più importante è l'articolo 5, un intervento nel campo della salute, quindi siamo sul generico, qui può fare al caso nostro, non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Ovviamente questo lo possiamo ricondurre anche alla Costituzione italiana che lo ricordiamo, prevede più o meno la stessa cosa. Nel momento in cui però la sospendi allora abbiamo qualche problemino. In ogni caso torniamo, qui abbiamo fatto scorrere, vedete che c'è il link firme e ratifiche, se non erano lo avevano già aperto, eccolo qua, stato delle firme e delle ratifiche, abbiamo l'elenco di tutti i paesi, membri del Consiglio europeo, vedete che sono molti a non averlo nemmeno firmato, se ricordo bene la stessa Germania non l'ha mai firmato, quindi la Francia invece se non erano già fatte la ratifica, vedete che trovate le tre colonne, firma, ratifica, entrata in vigore, l'Italia è tra i paesi che hanno firmato, punto e basta, siamo qua. Siamo questi, quindi noi abbiamo firmato, ma contrariamente a quello che sostengono alcuni, non l'abbiamo ratificato e andiamo a vedere perché. Questo è l'ultimo documento disponibile, 17 ottobre 2017, questo è un atto del Senato, l'atto di sindacato ispettivo numero 100854, cosa si chiedeva all'allora governo, potete andarne a trovare anche altri documenti come questo perché non è la prima volta che si reitera una certa richiesta. Allora, al di là di tutte le cose che vengono dette a noi interessa, prima cosa, la Convenzione ad oggi non è ancora stata adottata da tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia ha ricepito la Convenzione nonché il protocollo sul divieto di colonazione degli esseri umani, eccetera, eccetera, con la legge 28 marzo 2001 numero 145. E qui siamo sull'unico documento valido, per così dire, articolo 1, essa autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione nel protocollo. Articolo 2, piena e intera esecuzione è data la Convenzione e al protocollo a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. Detta così, sembrerebbe che l'Italia abbia fatto il passaggio della ratifica. In realtà, vediamo l'articolo 3, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quindi quella del 2001, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano, eccetera, eccetera. Ora, considerato che, vedete come lo dice, la legge del 2001 avrebbe dovuto regolare i rapporti tra diritto interno e diritto internazionale. In realtà, a, da una parte ha autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica, dall'altra ha dato piena e completa esecuzione alla convenzione, al protocollo, eccetera, eccetera, a mezzo di una delega non ancora esercitata. E che vuol dire che mancano i passaggi successivi. Dieter di ratifica, infatti, non è stato ancora perfezionato con il deposito del dispositivo presso il Consiglio d'Europa. Il mancato deposito del dispositivo e il mancato esercizio della delega hanno determinato nel nostro Paese una sorta di, virgolette, sospensione dell'efficacia della Convenzione di Oviedo, determinata in particolare da una ratifica prevista ma non ancora perfezionata. Poi ci sono tutta un'altra serie di indicazioni. Sostanzialmente che cosa succede? Cosa ci racconta questo documento? Così come altri simili ma precedenti. Che in buona sostanza noi dal 2001 ad oggi, 2020, sono passati quasi 20 anni, non abbiamo mai fatto quei due passaggi lì. La delega al governo non è mai stata presa in mano e portata a compimento. Il Presidente della Repubblica ovviamente non ha ratificato nulla. Infatti alla fine del documento noi leggiamo. Si impegna il governo a predisporre gli atti legislativi necessari per attuare nel nostro ordinamento i principi e le norme contenute nella Convenzione e nel protocollo sul divieto di colonazione degli esseri umani, armonizzandoli con la legislazione nazionale. Due, apporre in essere tutte le iniziative a perfezionare l'iter di ratifica della Convenzione e del protocollo presso il Consiglio d'Europa. Quindi noi non l'abbiamo perfezionato, sostanzialmente noi manchiamo di questa ratifica. Ora, perché ne parlo velocemente al volo qua, in studio? Perché ne parlo? Perché noi lombardi che siamo molto fortunati, si fa per dire, abbiamo il nostro meraviglioso Presidente di Regione che con l'ultima ordinanza, ricordo, adesso l'andiamo a vedere, valida dal 17 al 31 maggio, impone l'uso della mascherina, cioè appena tu apri porta, esci di casa, devi avere la mascherina, qualunque cosa tu faccia. Siccome io sono discolo e non me la metto, l'ho messa due volte. Sfortunatamente sono dovuto entrare in negozio, essendo un'attività privata, se mi dicono che non possa entrare senza, mi girano un pochino, ma sono costretto, anzi non ho messo quello mascherino, un po' diverso. Comunque, ho messo una specie di fulardino e poi me lo sono tolto, mi spiace ma io non riesco a respirare, con una roba del genere sulla bocca faccio una fatica bestiale. Andiamo a vedere un attimino l'ordinanza così ci capiamo. Quindi l'ordinanza, l'ultima è questa, la numero 547, 17 maggio, vabbè ci sono tutti i visti, 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 ci fosse stata la convenzione di Oviedo, probabilmente qualcosina sarebbe cambiato, ma non c'è, abbiamo detto, quindi articolo 1, ordina, Fontana ordina, le misure urgenti di contenimento del contagio, 1.1, obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni. Ogni qualvolta ci si arricchi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stessi gli altri dal contagio. Utilizzando la mascherina, tra l'altro, delle due l'una, o io sono contagioso o io non sono contagioso, però vabbè gli stessi, queste sono quelle minchiatine così, pur parler. Utilizzando la mascherina o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani, in ogni attività sociale esterna, deve comunque essere mantenuta alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Oh, io vedo tante persone che vanno in giro con i bambini con la mascherina, se sono sotto i sei anni, se proprio volete fare quelli legi al dovere, numero due, non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni. Ok, soggetti con le forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori, tra l'altro qui ci sarebbe da capire se viene considerato handicap, per esempio avere l'asma, potrebbe essere un problema respirare con una mascherina addosso, anche gli allergici che possono avere problemi respiratori, però io per l'amor del cielo. Numero tre, attenzione, attività motoria, attività sportiva, infatti io sto uscendo tranquillamente anche in bicicletta senza mettere assolutamente nulla, ma questa è consentita, non mi piace, mi piace di più il punto numero uno, non è consentito e io siccome non acconsento a che non sia consentito, insomma ci siamo capiti, quindi semplicemente torniamo a chiudere, noi abbiamo punto numero uno, per noi lombardi non è così in tutta Italia, ma comunque punto numero uno, obbligo di mettere una mascherina, siccome io non la metto se esco, cioè se sono fuori, io sono, non lo so, se è a 5 a 10 metri dalle persone che incrocio, non c'è contatto, non c'è pericolo, non c'è nulla, non la metto, non posso fare affidamento sulla convenzione di Oviedo, quindi scordatevelo, ci sono molte cose che potete fare, potete contestare, io per esempio dovesse capitarmi di essere fermato, prendere multe e quant'altro, contesto, assolutamente non pago nulla, ma lo faccio in un altro modo, il modo è diverso, bisogna andare ad attaccare sulla questione sanitaria, proprio sulla questione sanitaria, nonostante noi siamo la regione più colpita d'Italia, bisogna andare a questionare su quel punto preciso, particolare, comunque non potete usare la convenzione di Oviedo, disobbedienza civile, diciamo un po' di sana disobbedienza civile, questa credo che non ci sia, fino a prova contraria, non sia veritata, logicamente mettete in conto, se fate come faccio io, mettete in conto di poter andare a incorrere non solo in sanzioni, ma magari anche nell'arresto, può capitare, l'importante è essere fedeli ai principi che secondo noi, per l'amor del cielo, siamo in minoranza, ma secondo noi sono quelli giusti, tutto qui era giusto per dare qualche informazione, almeno secondo me dovrebbe funzionare così la cosa, e basta, adesso vediamo come procede, insomma, e ci risentiamo per prossime disquisizioni. Grazie a tutti.